Sono Daniele Ardiri, sono un'artista italiana, sono stata qui a Girona grazie all'interscambio fra Radart Italia e Bollit di Girona. Sono venuta qui ad agosto con l'obiettivo di raccogliere più informazioni possibili sulla città, quindi da un punto di vista storico ma anche dal punto di vista delle persone che vivono Girona. Solitamente la mia ricerca si basa sull'indagine della memoria e del vissuto personale. Durante questi mesi ho comunque lavorato al progetto e riflettuto su quello che le persone mi hanno raccontato, in particolare avevo chiesto loro di parlarmi di un punto della città nel quale era accaduto qualcosa, oppure che secondo loro era speciale per un motivo. Ho riscritto le nostre storie, ho riscritto la mia storia qui a Girona e le loro storie in questi luoghi, ho quindi creato questa auguronia e quando sono tornata adesso a dicembre ho dato una restituzione di questi racconti, quindi ho fatto leggere l'Ucronia ai personaggi, ai protagonisti e a tutti gli altri. Solitamente nei miei progetti lavoro, c'è sempre una parte visiva e una parte di scrittura, quindi l'indagine della memoria significa andare a scavare quello che è stato un fatto che è accaduto oppure un vissuto particolare e quindi c'è questa operazione di riscrittura della storia e alla quale associo sempre delle fotografie oppure dei disegni, in questo caso ho utilizzato sia la fotografia per quanto riguarda le persone che ho incontrato e i disegni in particolare quando ho pensato a come ricostruire una parte della storia di Girona. L'interessa molto indagare è appunto quella delle relazioni che si instaurano fra le persone e i luoghi. Nella città in cui io vivo potrei tranquillamente rinominare le vie della città con i nomi delle persone che ho incontrato o che incontro in determinati luoghi ed è stato bello anche qui vedere questo, adesso se io vengo in questa piazza piuttosto che magari vedo una determinata panchina o un disegno sul cemento, mi vengono in mente le persone che ho incontrato e quindi le relazioni che ci sono fra me e queste persone e tutte le altre perché poi si è creata come una rete di connessioni e delle connessioni degli incontri fra di noi.